Cagliari-Genoa 2-1 Il Cagliari vince contro il Genoa in maniera diretta, efficace e meticolosa Vediamo i gol nel dettaglio e poi le statistiche come sempre faccio nei miei video Innanzitutto la Cagliari gioca in casa, infatti è stata Cagliari-Genoa e non Genova-Cagliari, quindi in Sardegna I due gol sono di Nicola Sviola e di Gabriele Zappa Entrambi giungono nel secondo tempo Forse nel primo c'è stata forse poca attività, stando al risultato che viene a concludersi Per quanto riguarda invece il Genoa arriva anch'esso quest'ultimo gol nel secondo tempo, a firma di Albert Gundonson Che la mette dentro sfoderando quella capacità che lo contraddistingue da sempre Voi pensate soltanto che le statistiche sono tutte a favore del Genoa rispetto al Cagliari Più possesso di palla, molti più passaggi e una versione di passaggi più elevata, lievemente più elevata rispetto al Cagliari Eppure il risultato, come dico sempre nei miei video, quello che curta è il Cagliari, giocando in casa E avendo statistiche peggiori rispetto al Genoa, vince contro il Genoa Va bene? Comunque il Cagliari che gioca in casa Commentate il video in questione Iscrivetevi al canale Il Narrato Italiano Una buona giornata